Siamo qui con Gianluca Ferretti, responsabile Fondi Bilanciati e Corporate di Anima SGR. Dottor Ferretti, qui al Salone del Risparmio, la vostra società ha organizzato un evento, una conferenza con un ospite d'eccezione, il navigatore Giovanni Soldini. Di che cosa avete parlato? Sì, abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare Giovanni Soldini, il navigatore che ha recentemente stabilito il nuovo record sulla tratta Hong Kong-Londra, superando il vecchio limite addirittura di cinque giorni. Ecco, a parte il racconto che ha lasciato a noi tante emozioni, tutti gli imprevisti che ci ha raccontato, come ha affrontato la rotta, diciamo il messaggio che è emerso, il messaggio che è rimasto è che per affrontare un viaggio così impegnativo, per affrontare un impegno sicuramente rilevante in un team di cinque persone che hanno convissuto in una barca di un trimarano di 21 metri. Ecco, la parte importante è la pianificazione, lo studio, mai improvvisare. Giovanni Soldini ci ha raccontato che il progetto è partito addirittura più di un anno prima della partenza effettiva della barca da Hong Kong e questo ci ha fatto capire come appunto l'improvvisazione sia nel suo lavoro ma anche nel nostro sia veramente un fattore che non paga nel tempo. Ecco, diciamo la figura di Giovanni Soldini si lega anche al tema dell'esplorazione che è un tema valido anche per i mercati finanziari, anche per il lancio di nuovi prodotti. Se non sbaglio anche Anima in questo periodo ha sperimentato il lancio di nuovi prodotti, sta esplorando nuovi mercati e nuovi prodotti con nuovi strumenti. Quali sono di preciso? Ecco, i nuovi prodotti si chiamano Vespucci e Magellano, un bilanciato obbligazionario e un bilanciato che si inseriscono nella gamma di fondi bilanciati di Anima. Anima ha una lunga tradizione, più di 30 anni dalla nascita di Sforzesche e Visconteo che sono i fondi storici della casa. Vespucci e Magellano completano la gamma, si affiancano ai prodotti storici, non li sostituiscono e hanno la caratteristica prevalente di esplorare, così come il nome dei navigatori lascia intendere, di esplorare nuovi mercati. In questo caso i mercati emergenti, sia sulla parte obbligazionaria che sulla parte azionaria, con l'obiettivo di ricercare rendimenti in un mondo che adesso vediamo molto avaro di rendimenti. Quindi paesi con più crescita, nuove terre, nuovi mercati e quindi due esploratori che speriamo portino bene in questa nostra navigazione che è da poco salpata. Grazie dottor Ferretti. Grazie a voi, grazie. Grazie.